Buonasera e benvenuti al piano di Papa Francesco, benvenuta a Sor Linda Poker, professoressa di Mariologia e Cristologia alla Pontificia Facoltà Auxilium e Alice Bianchi del coordinamento delle teologhe italiane. Il tema di oggi riguarda le donne e riguarda soprattutto la Chiesa, facciamoci aiutare subito da Papa Francesco. La differenza sessuale è presente in tante forme di vita nella lunga scala dei viventi, ma solo nell'uomo e nella donna essa porta in sé l'immagine e la somiglianza di Dio. Il testo biblico lo ripete per ben tre volte in due versetti. Uomo e donna sono immagine e somiglianza di Dio. Questo ci dice che non solo l'uomo presso a sé è immagine di Dio, non solo la donna presa a sé è immagine di Dio, ma anche l'uomo e la donna come coppia sono immagine di Dio. La differenza tra uomo e donna non è per la contraprosessione o la subordinazione, ma per la comunione e la generazione sempre ad immagine e somiglianza di Dio. L'esperienza ce lo insegna. Per conoscersi bene e crescere armonicamente, l'essere umano ha bisogno della reciprocità tra uomo e donna. Possiamo dire che senza l'arricchimento reciproco in questa relazione, nel pensiero, nell'azione, negli affetti e nel lavoro, anche nella fede, i due non possono nemmeno capire fino in fondo che cosa significhi essere uomo e donna. Dio ha affidato la Terra all'alleanza dell'uomo e della donna. Il suo fallimento inaridisce il mondo degli affetti e oscura il cielo della speranza. Alice, uomo e donna insieme sono a immagine di Dio, dice Papa Francesco, l'abbiamo sentito. Nella nostra testa però c'è il racconto della Genesi. Tu hai scritto un libro che si chiama La differenza che tiene in sospeso il mondo e parte proprio dalla creazione dell'uomo e della donna o della persona umana, forse potremmo dire come suggerisci tu. Ci abbiamo nella testa che l'uomo viene fatto a immagine di Dio, la donna in qualche modo a immagine dell'uomo preso da una costola appunto. Ma invece non è così? Come non è così? Facci capire. Mischiamo due racconti. Uno è quello che citava Papa Francesco, la prima pagina di Genesi in cui è creato l'essere umano al sesto giorno della creazione e viene creato maschio e femmina. E poi la seconda pagina invece, al secondo capitolo di Genesi, la creazione ricomincia da capo perché il focus è un altro, ci si concentra proprio sulla relazione tra uomini e donne e lì viene creato l'essere umano per primo e la creazione viene creata tutta intorno a lui, quindi è chiaro che l'intenzione di Dio sia tutta a favore suo. E lì la parola che troviamo in ebraico è Adam, quindi a noi viene subito da dire Adam è il maschio, è l'uomo. Invece Adam in ebraico ha a che fare con l'adamà, la terra, questa parola significa terra, e quindi è l'essere umano che viene dalla terra semplicemente e include sia il maschile che il femminile. E quando la donna viene tratta dalla costola, lì è proprio la donna, il termine non è semplicemente femmina, è proprio donna. C'è anche un'elaborazione dell'identità, non è semplicemente un dato sessuale, c'è molto di più. E davanti a questa donna anche l'uomo si riconosce come tale e si dà il nome uomo, che in ebraico non è Adam, ma è un'altra parola, Isha. Senti, però dalla confusione di questi racconti sono nati molti problemi. Sì. Quali? Per esempio il fatto che quando parliamo di uomo e donna pensiamo ad una relazione soltanto sessuale, è come se quella fosse l'unica opzione di relazione tra uomini e donne. E lo facciamo in base al primo mandato di Genesi. Viene creato l'essere umano maschio e femmina per generare e popolare la terra. Però maschio e femmina sono termini biologici che vengono utilizzati anche per qualsiasi altro animale. Invece il secondo racconto della creazione ci dà più respiro perché ci consente di approfondire la relazione tra uomini e donne anche al di là della relazione sessuale. Certo, il primo uomo e la prima donna in Genesi sono l'avvio della popolazione, della generazione umana, ma lì dentro ci siamo tutti noi. Ci sono tutti gli uomini e tutte le donne che non sempre hanno tra loro una relazione di coppia o sessuale. anzi, uomini che si confrontano con l'esperienza di uomini che hanno conosciuto nella vita, che li hanno accompagnati, che sono diversi da loro e altrettanto donne che conoscono molte donne simili o diverse da loro. Papa Francesco, l'abbiamo sentito, dice che se non ci guardiamo l'uno nell'altro, uomini e donne non capiamo nemmeno chi siamo. pochi mesi fa il Papa ti ha invitato a tenere delle conferenze, degli incontri con il C9, il Consiglio di Cardinali che lo aiuta nel governo della Chiesa proprio perché sentiva, anzi te lo chiedo a te, perché ti ha invitato? Vorrei rispondere a questa domanda riallacciandomi a quello che diceva Alice. Quello racconto della Genesi dove si parla della donna che viene divisa dal primo essere umano creato, che prima che la donna sia divisa non è né maschio né femmina, è un essere umano unico. Prima della creazione della donna quel racconto lì ci dice che questo primo essere umano cerca di entrare in dialogo con gli animali ma non ci riesce perché gli animali non sono capaci di rispondere alla sua parola con una parola e per questo Dio crea un altro essere umano perché possa entrare in dialogo con questo Adam che altrimenti sarebbe rimasto solo. Tutta la creazione che Dio fa viene attraverso la sua parola. L'uomo e la donna sono gli unici altri due esseri che sono dotati di parola all'interno di questi racconti della creazione e quindi soprattutto in questo racconto si vede molto bene che nel piano di Dio c'è che gli esseri umani siano capaci di parlarsi, di parlarsi, di conoscersi attraverso il dialogo. In questo racconto che è simbolico c'è un uomo e una donna ci sono un uomo e una donna perché è come una sintesi della differenza delle differenze però noi sperimentiamo la differenza in ogni incontro che facciamo con l'altro e credo che il Papa abbia molto chiaro questo aspetto cioè che si può conoscere la realtà solamente mettendosi in ascolto di chi è differente di chi ha un'esperienza differente un punto di vista differente sappiamo che uno dei grandissimi temi del sinodo è il tema delle donne nella Chiesa e il Papa ha voluto in questo anno tra la prima sessione e la seconda sessione del sinodo ascoltare alcune donne teologhe per riflettere insieme su questo tema la Providenza ha voluto che fossi stata pescata io per organizzare questa serie di incontri e si è trattato di un'esperienza veramente molto arricchente perché il Papa insieme anche ai nove cardinali che fanno parte del suo consiglio hanno voluto veramente mettersi in ascolto di un punto di vista differente tra poco affronteremo proprio il tema da cui siete partiti il principio Mariano Petrino cerchiamo di capire che cos'è prima però volevo chiedere una cosa da lisce a proposito di differenze la differenza che tiene in sospeso il mondo è il titolo del tuo libro Donne e Uomini Cristianesimo ce lo spieghi un attimo in poco tempo però perché poi dobbiamo parlare Linda l'ha detto benissimo la differenza tra uomo e donna già in Genesi è la sintesi di qualsiasi differenza sì ma è sospeso che lascia un po' perplessi perché è sospeso non in equilibrio perché il tentativo è di ritrovare una relazione tra uomini e donne che sia sollevante cioè che tenga in sospeso il mondo in una maniera che consenta a tutti di sentirsi liberi di sentirsi non schiacciati andiamo di nuovo dalle parole del Papa l'Apostolo afferma con grande audacia che quella ricevuta con il Battessimo è una identità totalmente nuova da prevalere rispetto alle differenze che ci sono sul piano etnico-religioso cioè lo spiega così non c'è giudeo né greco e anche su quello sociale non c'è schiavo né libero non c'è maschio e femmina così infine l'uguaglianza in Cristo supera la differenza sociale tra i due sessi stabilendo una uguaglianza tra uomo e donna allora rivoluzionario e che c'è bisogno di raffermare anche oggi c'è bisogno di raffermare anche oggi quante volte noi sentiamo espressioni che disprezzano le donne ma guarda che uomo e donna hanno la stessa dignità e c'è nella storia anche oggi una schiavitù delle donne le donne non hanno le stesse opportunità degli uomini dobbiamo leggere quello che dice Paolo siamo uguali in Cristo Gesù come si può vedere Paolo afferma la profonda unità che esiste tra tutti i battessati a qualsiasi condizione appartengono siano uomini e donne uguali perché ciascuno di loro in Cristo è una creatura nuova ogni distinzione diventa secondaria rispetto alla dignità di essere figli di Dio il quale con il suo amore realizza una vera e sostanziale uguaglianza questo superamento delle discriminazioni è tratto, lo commentava Papa Francesco la lettera di Paolo ai Galati ma mentre è molto facile capire che non c'è più né schiavo né libero la dignità e la libertà degli esseri umani che cosa significa invece quando l'apostolo delle genti dice non c'è più maschio e femmina questa espressione non c'è più maschio e femmina maschio e femmina con la E è una citazione diretta del racconto di Genesi a cui faceva prima riferimento Alice maschio e femmina li creò perché li creò maschio e femmina? perché potessero popolare la terra quindi un racconto che dice che Dio ha creato maschio e femmina in vista della procreazione cosa succede però nella società nel mondo ebraico ma in tutte le società tradizionali che la donna per poter dare molti figli finisce per essere relegata in casa a prendersi cura di una moltitudine di figli e al lavoro domestico non c'è più maschio e femmina significa che generare la vita non è più un comandamento come era nel mondo ebraico ma diventa una scelta una scelta degli uomini e delle donne questo è un tema molto forte in San Paolo che dice gli ultimi tempi sono venuti scegliete se volete sposarvi e avere una famiglia o se volete restare liberi ed è proprio questa novità che avviene grazie alla resurrezione di Cristo perché se Cristo è risorto anche noi risorgeremo con Lui non dobbiamo più continuare la nostra vita nei nostri figli nella nostra discendenza perché tutti entreremo nella resurrezione e questo dà ai cristiani la possibilità di sciogliere questo nodo l'obbligo di avere dei figli e di dare alle donne la possibilità di fare anche altro questa è stata una grande novità della Chiesa Antica ed è stato anche l'inizio del femminismo la possibilità per le donne di iniziare a pensarsi non solamente come mogli come madri ma anche come discepole come apostole come persone che hanno dei compiti, dei servizi anche all'interno della comunità cristiana quindi le sacre scritture sono tutte liberanti per tutti? per le donne è stato molto liberante il messaggio cristiano nei primi secoli è stato evidente quanto sia oggi liberante nel corso dei secoli il cristianesimo si è confrontato con diversi contesti sociali quindi a volte ha pattuito la propria sopravvivenza a volte anche sacrificando alcune delle acquisizioni che il Vangelo aveva proposto che rimangono che oggi noi possiamo riscoprire approfondire e riprendere e questa libertà del Vangelo in verità oggi è offerta tanto alle donne quanto agli uomini che forse hanno ancora molto da fare oggi su Avvenire è uscita una lettera per esempio firmata dalla redazione di Mosaico di Pace su smaschilizzare la Chiesa appunto che parla della necessità per gli uomini di prendere l'elaborazione della propria maschilità quindi capire che cosa significa essere uomini oggi quanti modi ci sono di essere uomini così come le donne del primo cristianesimo si sono sentite così libere da dedicarsi totalmente al proprio signore non necessariamente passando da un matrimonio o scegliendo alternative di vita anche con un immaginario molto originale così oggi forse è richiesto agli uomini di fare questo passo di scavare le proprie relazioni tra loro e con le donne Alice ha citato smaschilizzare la Chiesa che è il titolo del libro che tu hai scritto insieme a Lucia Avantini e Luca Castiglioni che alla fine non è altro che quello che avete raccontato perché tu sei stata invitata ma poi hai chiamato anche Lucia e Luca a intervenire al Consiglio dei Cardinali e che cosa avete detto al Papa e che cosa la Chiesa va smaschilizzata allora il Papa appunto aveva chiesto di affrontare in modo ampio il tema delle donne nella Chiesa sono stati realizzati già tre incontri il primo da cui poi è nato il libro di cui abbiamo appena parlato in questo primo incontro ci siamo occupati soprattutto del principio Mariano Petrino di Baltasar nel corso del ventesimo secolo il tema delle donne emerge come un tema che richiede di essere affrontato nel diciannovesimo ventesimo secolo prima non esiste questo tema e la teologia è povera di riflessioni su questo Baltasar offre una prima riflessione che però è fortemente condizionata dalla cultura in cui Baltasar scrive Baltasar dice in un momento in cui in ogni caso si inizia a capire che la Chiesa è troppo clericalizzata e quindi maschilizzata maschilizzata perché il fatto che solamente i maschi possano accedere all'ordinazione sacerdotale quindi tutte le posizioni di governo della Chiesa fa sì che una forte appunto che la forte gerarchizzazione della Chiesa corrisponda con una forte maschilizzazione e ci si inizia a rendere conto che la Chiesa non è solo la gerarchia che c'è anche il popolo di Dio che ci sono anche le persone che pregano che amano pur non avendo incarichi e le donne ovviamente rientrano in questo gruppo che è fatto anche da tanti laici da tante persone consacrate anche uomini che non sono sacerdoti e questo grande insieme di persone che appartengono al popolo di Dio è rappresentato da Maria nel pensiero di Balthasar mentre chi appartiene alla gerarchia è rappresentato da Pietro e quindi Balthasar prova a pensare le relazioni all'interno della Chiesa mettendole un po' in parallelo con queste due figure bibliche cosa che dà comunque un respiro perché appunto si inizia a ricordarsi che non ci sono solo Pietro però il problema è che questa impostazione di Balthasar rischia di diventare una gabbia perché giustifica il fatto che appunto le donne o anche i laici non possano accedere a tutta una serie di possibilità di servizio all'interno della Chiesa non soltanto il tema dell'ordinazione ma fino al tempo di Balthasar dopo il Concilio le donne non potevano neanche studiare teologia non avrebbero potuto insegnare teologia Balthasar riteneva per esempio che il discernimento spirituale appartiene ai ministri ordinati non ai laici o alle donne sono tanti i temi legati a questo e comunque che si possono comprendere se si guarda questa questa pensiero di Balthasar nel tempo in cui è stato scritto quello che noi abbiamo detto al Papa in quell'incontro abbiamo cercato di far capire a lui anche ai cardinali quelli che secondo noi sono i limiti di questo tipo di pensiero e anche di provare a offrire qualche umilmente qualche prospettiva diversa tutto questo è stato pubblicato nel volume senti il fatto che discernimento addirittura lo studio della teologia era precluso alle donne ci ha molto impoverito tu fai una distinzione anche tra il pensiero femminile e quello maschile è importante che il volto di Dio venga disegnato non solo dalla matita maschile ma anche da quella femminile l'importante è che ci sia una composizione plurale che ci si confronti a partire da delle identità che sono plurali nel libro insisto tanto sul fatto che io non sono solo donna sono anche una donna giovane una donna bianca sono ho un'istruzione teologica ho diversi elementi che costituiscono la mia identità e tutto contribuisce a parlare di Dio nella mia esperienza e allora questo confronto continuo di differenze significa questo andare oltre a semplicemente delle categorie che ci dividono ma anche vedere delle sovrapposizioni dei punti di contatto dei luoghi dove possiamo arricchirci gli uni gli altri gli uni alle altre in conclusione faccio a tutte e due una domanda secca abbiamo un minuto però ed è pure difficile che cosa vorreste cambiare se tu avessi dovuto dire una cosa a Papa Francesco ma poi lo chiederò pure a te vorrei che cambiassi questo nella chiesa rispetto alle donne io credo che la cosa fondamentale sia che ci siano veramente dei luoghi di dialogo dove ci si ascolta veramente e si può veramente dire quello che si pensa non sempre nelle nostre comunità ecclesiali è possibile ma la barriera dov'è tra uomo e donna tra laici e presbiteri ma dipende ovviamente dal contesto però diciamo che il diritto non ci sono degli strumenti istituzionali per esempio nel diritto canonico che garantiscono a tutti la possibilità di parlare per esempio quindi credo che ci vorrebbe qualche riforma che permette di garantire con qualche forma istituzionalizzata che nelle comunità si impari ad ascoltarsi veramente Alice dei passaggi si stanno già facendo nella direzione che io spero che è quella di ripensare il ministero perché non ci sia più una distinzione lo faccio a gesti perché è l'unico modo in cui viene bene una distinzione come se appunto chiunque sia riconosciuto istituzionalmente chiunque abbia un ministero sia più in alto in qualche modo siamo passati dal battesimo perché dobbiamo tornare a lì c'è una distribuzione una possibilità di ripensare anche le dinamiche di potere all'interno delle nostre comunità a partire dal battesimo e ripensare al potere vuol dire in questo momento storico ripensare al ministero moltiplicare i ministeri istituiti ripensare le nostre comunità ripensare al ministero ordinato sacerdotale presbiterale e molto altro grazie Alice e grazie Sor Linda noi ci diamo appuntamento a domani come sempre a 17.30 buona serata